Convocare in audizione a settembre i rappresentanti delle forze armate, il presidente del parco dell'Altamurgia Cesare Veronico e gli altri componenti del Comipa per revocare le servitù militari presenti nel parco. A sposare la battaglia avviata dal presidente del parco Cesare Veronico e il Comipa, comitato misto paritetico che è organo consultivo nell'individuazione delle aree per le esercitazioni militari. La parola definitiva spetterà il Ministero della Difesa, ma l'opposizione del Comipa, annunciata oggi nel corso di una conferenza stampa tenuta nel Palazzo del Consiglio regionale a Bari, segnerà probabilmente un decisivo punto di svolta nella vicenda. L'idea di far cessare le esercitazioni militari nel parco dell'Altamurgia era stata portata avanti proprio dal presidente Cesare Veronico. Le adesioni da parte di alcuni parlamentari pugliesi non avevano sortito particolari effetti e Veronico era arrivato al punto di minacciare le dimissioni da presidente dell'ente parco nel caso in cui non si giungesse alla decisione di sospendere le esercitazioni, che oltre a ridurre la fruibilità del parco provocano problemi all'agricoltura, agli allevamenti e più in generale all'ecosistema che si è voluto tutelare quando si è deciso di fare dell'area dell'Altamurgia un parco naturale. Sono sette i consiglieri regionali che fanno parte del comitato misto paritetico e tutti hanno espresso la volontà di dire no alle esercitazioni militari, trovando peraltro la disponibilità della vicepresidente della regione, Angela Barbanente, che è anche la delega ai parchi. Ad annunciare tutto questo nel corso di una conferenza stampa tenuta questa mattina, anche a nome degli altri componenti del Comipa, i consiglieri regionali Ventricelli, Curto, Lonigro, Friolo, De Biasi e Laddomada, i quali hanno fatto notare come siano inconciliabili le prerogative delle esercitazioni, con i principi che hanno portato all'istituzione del parco, portando ad esempio i pericoli di incendio che possono essere provocati da queste attività e la campagna antincendio della regione e l'inconciliabilità con la candidatura del parco all'area della Carta Europea del Turismo Sostenibile.